Tempo di attesa, ricolma di promesse, ecco i profeti portano speranza. Nuovi orizzonti si aprono nella storia, il Salvatore viene in mezzo a noi. Prepariamo la via al Signore, avviandiamo le strade di Dio. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Se ascoltiamo con fede la sua voce, percorreremo strade di salvezza. Se seguiremo davvero la sua parola, risplenderà la sua luce dentro noi. Prepariamo la via al Signore, avviandiamo le strade di Dio. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Parla nel cuore il verbo di sapienza, la sua parola è luce per la vita. Vive con noi, cammina con noi nel mondo, ogni vivente conoscerà il suo volto. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Prepariamo la via al Signore, e chi viene non tarderà. Prepariamo la via al Signore.